Alfonso Signorini svela il dietro le quinte del grande fratello VIP, mostrando il suo camerino che quest'anno ha una piccola zona living e una zona dove nell'attesa per la diretta può suonare il suo pianoforte per scaricare lo stress. Infatti Alfonso Signorini è anche pianista amatoriale, sul muro alcuni quadri della Callas. Insomma si è attrezzato bene per quest'anno visto che i presupposti di una diretta semestrale ci sono tutti qui di meglio essere comodi. Ormai la diretta è dietro la porta manca poco e scopriremo insieme quest'anno come verrà sviluppato il programma. Canale YouTube Fabio Pecce